molto bene inton temos aqui nostra tabella come sempre e agora vanno sbalanzeare dobbiamo fare prima un creme e poi faremo un sorbet, vanno fare quello che in italia è chiamato di zabaione, il zabaione è un dose tipico italiano, si prepara a secolo, praticamente è una mistura di gemma di ovo, vino marsala e un poco di azucar, si cosina bagnomaria e questo è tipico e si creme poco e spesso perché quando cosina bagnomaria coagulan e non si dà questa testura un poco particolare ok, allora sendo un creme come sempre collocaremo come primero ingredienti uleici, allora diciamo no a quella regra che geralmente si usano 600 grammi di lecce nel caso non vale, non è una regra certa, per esempio se si va a fare un creme di cerveja, dove vedremo che baseato nel nostro calcolo potremo colocare anche 300 grammi di cerveja per kg, dipendendo del volume alcohologo ovviamente, ovviamente la lecce ovviamente noi sappiamo che abbiamo che abbassare, baseato in che mai sarà baixo il volume alcohologo della bebida che facciamo colocare meno lecce colocaremo, mai sarà alto, per esempio si può fare un creme di rum, rum con passas ok, che accontesse che uleici può deficare mai o meno in quella quantità di 600 grammi, perché molto volume alcohologo automaticamente non potremo colocare una quantità di rum molto alta. allora lecce, io colocarei nel caso particolare, cominciarei con 400 grammi di lecce ok, perché mettiamo a colocare il volume Marsala, perché il zabaione ha il volume particolare sul d'Italia, possiamo trocarlo con altre cose? Non ho consiglio, nel caso io sono molto tradizionalista, ma se vogliono fare un zabaione con il vino Porto, per esempio c'è anche il vino spagnolo, Malaga Virgen, che è un vino ben parecido, è più parecido con Malaga Virgen o Marsala che con il vino Porto, il vino Porto ha un retrogusto un po' a seregia, quando il vino Marsala e il Malaga Virgen si parecchiano molto più, ok? Ora, lecce 400 grammi, vamos vedere i nostri valori, no? Come sempre la lactose di lecce, vamos calcolare nella colonna della lactose, lo stesso che è un açucar, 5% quindi 20 grammi, gordura 3,5 darà 14 grammi di gordura, 14 proteine, solidos differenti, nada, solidos totali, 48 po' di pack sempre baseato, la quantità di açucar, nel caso di lactose, 16% di 20 da 3,2, colocaremo 3 e potere anticongelante uguale al peso del vino. Ora, un consiglio, quando faremo questi tipi di sorvelli, vedremo che il potere adossante di sorvelli, dovremo essere un po' di più, ovvero, non sarà tanto dolce, non dovremo avere un po' di più, perché se no, dopo non ha nessun sapore, perché? Perché più basso colocaremo il potere adossante, più alcool potremo mettere dentro delle sorvelli, più alcool, ma il sapore a, per esempio, nel caso, a vino. Ok? Ora, normalmente a gente colloca con il secondo ingrediente o con il primo ingrediente, no? A volte prima il sapore e poi il leite, a volte il leite e il sapore muda poco, ma nel caso a gente dovrebbe mettere il sapore. Qual è il sapore? Il vino marsala? No! Nel caso di sorvelli alcohologo, la parte alcohologa, vedremo che si colloca nel final delle reselle. E i nostri obiettivi, la nostra scala di obiettivi, vedremo che muderà. Ok? Quindi, vediamo, mettiamo il leite, posso già mettere la gamba di ovo, perché? Perché fa parte del sapore, nel caso, perché è una caratteristica del sapore. Ora, la gamba di ovo, io so che qui nel Brasile non è, diciamo, il Brasileiro non è un fan del sapore da gamba di ovo, ma in realtà uno zabaione dovrebbe mettere abbastanza di gamba di ovo, è una caratteristica del sapore. Ma questo saranno voi che decidere. Io normalmente nel mio zabaione io mettere 200 g di gamba di ovo, che è una quantità abbastanza forte, perché? Perché, ripeto, io chiedo una determinata caratteristica. Ora, in questo caso, io vorrei mettere solo 100 g. Quindi, una gamba di ovo, 100 g. Vedremo i nostri valori nutrizionali della gamba di ovo e vedremo che non c'è azucar, non c'è lattosi, gordura, mediamente un 32%, proteina 16. Solo due differenze in un, totale 48, e non calcolaremo un po' di pack, perché ovviamente non abbiamo assucari o altri tipi di ingredienti che alterano il potere anticongelante. Ok, ora passiamo ai nostri obiettivi, che saranno gordura, proteina. Ora, il terzo obiettivo sarà il pod, non sarà il pack, vedremo. E poi, solido osteotaisi, per ultimo, il potere anticongelante. Ossia, come potete vedere, la nostra sequenza di obiettivo mudò un poco. Quando il terzo normalmente è il potere anticongelante, in questo caso, il potere anticongelante viene l'ultimo obiettivo e il potere addossante viene il terzo obiettivo. Quindi, ora, con la gordura. Ora, le creme, la gordura, aumenta un pochino. Se normalmente lavoriamo qualche 9%, sappiamo che possiamo lavorare, la nostra tesora, il nostro parametro, va di 50-120, no? 50-120. Ora, nel caso dei cremi alcooli, la gordura aumenta. Ossia, questa tesora si riduce e va di 100 a 120. Perché metteremo più gordura, in questo caso? Perché, ripeto, l'alcool è un destabilizzante. Non solo che ha un potere anticongelante altissimo. Quindi, visto che parte di questa gordura non lavorerà come dovrebbe, aumenteremo la quantità di gordura. E io metteremo un obiettivo di 100 g di gordura. Ora, temo quanto? 14, ma è 32, 46. Stanno mi faltando 54 g. Nesse caso, collocaremo... Che tipo di gordura? Creme di lecci? No. Voi usare una gordura pura. O manteca o olio di cocco. Io usare un olio di cocco senza sabò. Che, alias, mi darà una struttura ben maestabile. Olio di cocco. Quanto? 54. Perché? Perché è gordura pura. Se ho preso di 54 g, automaticamente collocarei 54 g di olio di cocco. Non c'è nulla di tutto questo. Sòlidos totali 54 g di pacco. Nulla. Già abbiamo il nostro primo obiettivo. Passiamo alle proteine. Nel caso delle proteine, anche vedremo che dovremo aumentare. Sempre per lo stesso motivo. Qual era? La stabilizzazione del alcool. Aumenteremo le proteine. Di maniera che la quantità alta di proteine faccia meglio il proprio lavoro. Quanto? Normalmente, se abbiamo, no? La nostra tesora va di 30 a 60. Normalmente, a gente ci colloca un 4,5. A chi aumenteremo? La nostra tesora si riduce, e va di 50 a 60. Ossia, nel caso, io vorrei colocare 55 g di proteine come obiettivo. Se ho già 30, mi faltano 25. Agora, usarei o che? Lecci un po' desnatato. Então, vorrei colocare lecci un po' desnatato. Quanto? 25, dividendo la quantità di proteine di lecci un po' desnatato. Ossia, il 35%. Teremo 71 g di lecci un po' desnatato. Vamo calcolando i valori nutrizionali deli. Azzucari, sì, ma l'actosi. Quanto? 52%. Che nos darà 37 g di lactosi. 52% di 71. Gordura, 1%. Se chiedermos calcular, 1% è 0,7 g di gordura. Podemò arredondar a 1 grammo. As proteine, già calcolamos. Sólidos differenti, 7%. Ok? Lembrando che sono un po' di cinza che si formano durante il processo di desidratazione del lecci e, anche, i minerali. Quindi, 7 da 5 grammi. Sólidos totale. Vamo fare la suma. 38, 58, 63, 68. Lembrando che c'è sempre la piccola porcentaggio di acqua. E il po' di PAC, ovviamente, baseato nella lactosi. Ok? Il 6% di 37, che dà 5,9. Redondiamo a 6. e il PAC è uguale al peso degli, ossia 37. Ok? Ora, abbiamo la nostra quantità di proteina e di gordura, passeremo a un po' di radossaggi. Cosa importante, pessoal, che quando falamo di sorbet e cremes alcoolicos, lembrando che l'unico açúcar che usaremo sarà la saccarosi. perché questo? Perché la gente, in realtà, c'è chi? Perché il PAC si desce per ultimo? Perché la gente, c'è chi? Non precisa di potere anticongelanti. Il potere anticongelanti sarà la bebita alcolica che va in aerea. Ossia, non sarà un problema. Anche il nostro problema sarà di dare dolce a queste sorbet. Ok? E quando falamo di sorbet alcolico, la dolce baixa un pochino. Perché? Perché dobbiamo dare, in qualche forma, un po' di dolce, ma, allo stesso tempo, non dobbiamo scegliere. Perché più dolce io voglio fare sorbet, meno alcool io posso mettere. Lembrando che il dolce è solo i azucari che dà questo. Quindi, più azucari io coloco, automaticamente il mio potere anticongelante aumenterà e automaticamente io potrei mettere meno alcool, che non è quello che noi vogliamo. Quindi, per questo si usa solo la saccarosi. Lembrando che la parità di potere anticongelanti, la saccarosi, è il più dolce. E, ademais, la saccarosi, come abbiamo visto nel nostro tópico, dà quella linea a ridaggi di dolce e di sabone. Ok? Ora, quanta saccarosi? Diciamo che la nostra tesora di potere addossare ci va di 130 a 150, in questo caso. Io, come sempre, scoglio un valore medio, che è 140. Allora, ci sarà che 9 mi faltano 130. Colocarei 130 grammi di saccarosi. Quindi, saccarosi, 130 grammi. Azzucari, 130. Lattosi, nada, nada, nada. Sollide totale, 130, poi dei anticonjellanti, 130. E, alle nostri solide totale. Solli totale, lembrando che nel sorvegliel alcoolico se aumenta un po' più se sono solido per lo meno chegeremo a un 40% ora, vamos a vedere io colocare qui 410 grammi la nostra tesora va di 400 a 420 io colocare 410 possiamo colocare 400 mettiamo 400 così facciamo un po' diciamo senza fare molti calcoli ora, vamos sumando mi dà 348 grammi ok? la summa del solido che abbiamo ancora mi faltano 52 grammi di che? in questo caso nel servizio alcohólico esqueci la glucosa perché la glucosa ripeto, anche se sono 50 grammi ma è un po' di un pack e io voglio diciamo lasciare il mio pack il più basso possibile perché ripeto più paci che ho a disposizione più alcool io potrei mettere in questa resella diciamo che normalmente nel sorveggio ci si usa maltodestrini o inulina e nel nostro caso consiglio è usare inulina potremmo usare anche maltodestrini ma è inulina da diciamo una struttura un po' ma come dice reseccata ossia mantiene un po' meglio l'acqua rispetto a maltodestrini ok allora io gli collocare 52 grammi di inulina inulina quindi 52 ovviamente ripeto non calcolaremo i azucari quelli pochi azucari che c'è lì dentro solito differenti 52 poi di pac non calcoliamo ok ora seguiamo con la nostra resella abbiamo praticamente i primi 4 obiettivi mi falta il potere anticongelante che ripeto che vamos dare questo potere anticongelante attraverso nel caso il vino Marsala ok quanto il vino Marsala ora vamos vedere una operazione che nel comienzo sembra un poco complicata ma una volta che aprendiamo a diciamo a lidare con questi numeri verano che sarà molto facile quindi vamos là gente vou apagar questa parte e vamos fare questa operazione ok qui già coloco il vino Marsala il vino Marsala ha un 18% di volume alcohologo voi scrive qui e lembrando nostra scala categoria di bebida alcohologo è un vino doce allora io calcolo un 10% di azucar 18% volume alcohologo e 10% di azucar ok azucar saccarosi ora che operazione faremo 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 un esempio ah esqueci la temperatura di servizio supponiamo meno 12% è ovvio che ma nostra temperatura sarà baixa ma anticongelante o sia ma alcohologo possiamo colocar nel sorveggio ora visto che nostra vetrina probabilmente sarà balanceata a meno 12% meno 11% è ovvio che aumenteremo invece la temperatura o sia meno 10% meno 9% meno vino marsala possiamo colocar ok io pego una temperatura media temperatura media di meno 12% daqueli 260% 280% è un creme e mesmo che a gente dà un poco ma di potere anticongelante io chegerei nel limite ma si ficarà 290% o até 300% non sarà un gran problema a meglio il nostro cervello sarà un poco ma mole dei dimenti ma si poderemmos colocar un poco di marsala perché il nostro obiettivo principal è colocar vino marsala qui dentro perché si senti il aroma la parte aromática quindi vamos vedere 280 punti abbiamo già quantos 167 187 praticamente podemos dar 100 punti di potere anticongelante ok ripeto virare questo invece che 280 287 ma non seranno 7 punti di potere anticongelante che mudano mia resella ora come calcularmo a quantità di vino marsala per tentativi non nunca si va per tentativi vamos fare una operazione al contrario ora qual è a operazione se lembrano che io falei che cada gramma di álcool c'è un potere anticongelante 7,4 vezes è il peso delle osea un grammo di álcool tem 7,4 punti di potere anticongelante ma a gente tem o volume non temos gramma se a prima operazione a fare ripeto è una operazione inversa da direita vamos para esquerda sarà 18 dividido 79% 79% lembrando che 79% è il peso specifico dell'alcool osea che stiamo facendo con questa operazione stiamo trasformando i mililitri in grammi perché a gente precisa di grammi ok sarà 100 che sono i punti di pack che chiamo colocar dividido 7,4 osea facendo questa operazione a prima cosa che encontramos saranno le grammi di alcol puro che a gente precisa colocar per avere 100 punti di potere anticongelante che darà 13,5 gr di alcol osea osea per atingire 100 punti di pack precisiamo di 13,5 grammi di alcol ok ora temos che trasformare grammi in volume osea 13,5 dividido 79% osea attraverso questa operazione stiamo trasformando 13,5 gr di alcol puro in mililitro perché ripeto a gente tem mililitro non tem gr che mi darà 17 millilitros di alcol ora terceira operazione sono 3 operazioni una vez encontrato mililitro 17 dividido 18% che è la porcentage alcohola do biomarsal è ovvio che se questa porcentage fosse sei là 10% 12 40 non sei essas due primeiras operazioni sono sempre as mesmas non perché puntos di pack che precisamo dividido il pack di alcol risultato dividido il peso specifico di alcol e risultato dividido il volume alcolico da bebita che stiamo usando se fosse una bebita 30% di volume alcolico è ovvio che a poco che il numero aumenta il risultato sarà sempre meno a poco il numero baixa il risultato sarà sempre maior ok ora 17 dividido 18% diciamo che il risultato dà 94,4 io coloco 95 grammi di vio marsala 9,5 10% ok nada di lactose gordura proteínas nada di tutto isso solidos totais 10% perché l'alcol non si calcula come un solido na verda è junto con l'acqua sarà altro liquido l'anticongelante in l'alcolto aumentò 10% perché ha 10% di azucar molto facile aumentare 10% di solido 10% di pot tutto bene quindi senza fare molte operazioni la saccharose divina 120% ose che ho tirato la saccharose e rebalanceare la resella in una forma ben facile perché ripeto calculare l'acqua come se fosse saccharose ora che abbiamo atingito i nostri 5 obiettivi ok e fare i nostri ultimi calcoli ose chiamamo fessar fessar nostra resella liga neutra neutro e so repito dependerà di che neutro voi stanno comprando io colocare 5 grammi è un solido differente e por ultimo temos che ver quantas grammi totali temos nella nostra colonna di grammi o total darà 897 grammi ose già stanno faltando 103 grammi ora soluzioni prima coloco 103 grammi di leite ose il mio leite va di 400 per 500 sarà un problema non non perché aumenterà 12% solido non ma stanno nel nostro parà meno aumenta un po la lactose è cosa di poco co co feito con vino marsala prafica a meno 12 graus centigrados